Ecco ragazzi, terza prova eh, dai, ce la facciamo. Come avremmo messo abbiamo allestito il reparto di 45 giri per jukebox e altre rarità come singoli che non avete mai visto in negozio. Molti hanno la fascetta originale come questo di Claudio Cettietto e Luca Barbarossa, questo di Dario Farina con gli Spargo, questi tutti i 45 giri di gioco jukebox, il settore di Fancapoia con i banarama, con le banarama. Allora il settore sarà esposto soltanto e unicamente nel weekend, quindi sabato e domenica. Molti di questi singoli, quasi tutti, li troverete su www.ministracch.com perché cominceremo a postarli appena possibile. È finito l'inserimento dei 78 giri che stanno andando da morire, abbiamo venduto i sei in Lussemburgo. Per cui vedeteci a trovare, siamo a Roma nel centro commerciale di Granai, via Amato di Chiamonti 100, tutti i 45 giri originali, vendeteci a trovare 10-20, orario continuato.